Anche le Marche sperimenteranno la terapia del plasma iperimmune. Il protocollo presentato e poi integrato con i correttivi richiesti dalla Commissione dell'8 maggio è stato approvato ieri con esito positivo del Comitato Etico della Regione Marche. I correttivi erano stati eseguiti dal primario della Clinica di Malattie Infettive di Torrette, Andrea Giacometti, coordinatori per le Marche del protocollo. In tutti e 12 centri trasfusionali della Regione, nei tre poli ospedalieri di Pesaro, Ancone e Fermo, sarà possibile per i guariti da Covid-19 donare il plasma contenente un certo numero di anticorpi ritenuti necessari per la cura. I donatori verranno catalogati in due gruppi, ha detto il direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale Daniela Spadini, donatore abituale con percorso di donazione già avviato e candidato donatore non ancora ruolato, il quale sarà sottoposto a una serie di accertamenti prima della donazione. Entrambi le tipologie di donatori dovranno attestare di aver contratto il virus e di essere guariti con la certificazione del doppio tampone negativo. Dopodiché, spiega il direttore Spadini, dovranno passare 15 giorni per poter effettuare la donazione di plasma. I candidati donatori potranno rivolgersi per le donazioni alle sedi avisine, comunali e provinciali, ma anche ai servizi trasfusionali regionali. I limiti di età per la donazione del plasma, iperimmune e dai 18 ai 60 anni compiuti e saranno escluse le donne in stato di gravidanza. Il progetto parte da oggi e la sperimentazione durerà sei mesi. Il presidente della regione, Luca Ceriscioli, ha ribadito nessuno stop. I fatti dimostrano la verità. È stato creato un allarme inutile per il ritardo dei protocolli, generando preoccupazioni infondate per i cittadini e soprattutto approfittando della fragilità delle persone malate. Annuncia un'informazione trasparente e puntuale anche su questo tema con esperti e tecnici.